La regionale numero 1 per noi è una cosa di grande priorità, ne abbiamo parlato in tutte le sedi, non ultimo con il Ministero e pare che ci sia un ritorno di fiamma su questo argomento. Noi consegneremo a breve in Prefettura un documento in cui diciamo quali sono le priorità per i Monti Dauni e al primo posto in assoluto c'è la R1. Sicuramente è una cosa di primaria importanza perché avvicina di più i nostri territori alle autostrade, al centro, alla città ma soprattutto mette in collegamento i nostri comuni e soprattutto perché chi arriva da fuori può raggiungere i nostri comuni in minor tempo e con meno disagi. Ma alla regionale 1 vanno aggiunte sicuramente il rifacimento delle strade che dalla regionale 1 portano all'interno altrimenti sarà inutile anche la regionale 1. Sì è un'infrastruttura importante ovviamente il nostro territorio ha bisogno di quella e di tante altre ma non deve diventare l'alibi per non fare nulla nel frattempo che arrivi questa strada. Quanto è importante la regionale 1 soprattutto per le comunità dell'Appennino? È essenziale e può dare vitalità nuova a questo territorio soprattutto ai Monti Dauni che spesso vivono in una situazione di isolamento e perché no anche può dare la possibilità a questi territori di dargli una prospettiva. Grazie Grazie